Il Covid-19 continua a preoccupare sia in città che nelle frazioni. La crescita dei contagi resta costante anche se al di sotto della media dell'area metropolitana di Bari in rapporto alla popolazione residente. Dagli ultimi dati diffusi dal sindaco Michele Abaticchio, gli attualmente positivi risultano essere 299, 272 a Bitonto, 19 a Mariotto e 8 a Palombaio. Altri 126 concittadini sono invece in isolamento. Fra loro 88 sono negativi e 38 attendono ancora di essere sottoposti a tampone. Dal 1 novembre il nostro territorio però ha contato 61 guariti e purtroppo anche 7 decessi. Necessario è dunque mantenere la guardia alta anche fra le mura domestiche. 127 sono infatti i casi positivi in famiglie comuni. Si conferma inoltre la giovane età dei contagiati. La media anagrafica è di soli 39 anni. Come vedete chi molla la presa non sa quanto danno può ancora arrecare. Prima di tutti a se stessi e ai propri cari è stato il messaggio inviato tramite social dal nostro primo cittadino. Proprio per limitare assembramenti e prevenire nuovi casi Michele Abaticchio ha ordinato nuove restrizioni. Dopo la chiusura anticipata imposta ai negozi di vendita al dettaglio, a barbieri, parrucchieri ed estetisti, ora ad essere fermata sarà l'attività dei cosiddetti spuntisti. Da giovedì scorso e sino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica è infatti sospeso il commercio ambulante su aree pubbliche in forma itinerante. Dal provvedimento sono quindi colpiti solo i detentori dell'autorizzazione di tipo B che non hanno uno stallo al mercato e stazionano in posti non assegnati e non ancora venduti. Ancora cancelli serrati poi per la villa comunale. L'ordinanza di chiusura firmata dal sindaco a inizio novembre è infatti prorogata sino al 3 dicembre.